Si fa sempre più stretto il cerchio attorno all'assassino di Katia Dello Marino, la 41enne biturgenza ritrovata senza vita sul greto del torrente Afra a Sansepolcro lo scorso 12 luglio. L'omicida potrebbe avere le ore contate, il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo e dei militari della tenenza di Sansepolcro potrebbe essere infatti di fronte ad una svolta. Tra gli attenzionati, una decina di uomini, tutti sulla cinquantina e residenti nel biturgenze. Adesso potrebbe essere proprio l'esame del DNA alla prova regina a confermare l'ipotesi degli inquirenti. Le comparazioni dei campioni genetici prelevati a più di 100 uomini con il DNA di ignoto 1, isolato dalle tracce biologiche rinvenute sul cadavere della donna, fino ad oggi hanno sempre dato esito negativo. Ma sono attese per i prossimi giorni le risultanze di ulteriori confronti. Stando alle indiscrezioni trapelate, sembra che dietro ai corredi genetici al momento analizzati nei laboratori dell'Università di Pisa potrebbero celarsi i volti degli uomini ritenuti dagli inquirenti maggiormente interessanti. Al vaio degli investigatori anche un'ulteriore ipotesi. L'omicida di Katia, che nella notte tra l'11 e il 12 luglio prima l'avrebbe picchiata brutalmente e poi uccisa con alcuni violenti colpi alla testa, potrebbe essere stato coperto da qualcuno, come un amico o un conoscente. Grazie. 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 Grazie.